Sono un ingegnere meccanico e sto effettuando un collaudo funzionale su questo scarico. Devi sapere che ci troviamo sulla pista di collaudo di un'importante azienda che produce e marmitte. I tipi di marmitte sono più di 2000 e si suddividono tra moto da strada, scooter o moto da cross. Questa è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di marmitte che andranno qui ad equipaggiare moto come Honda, Aprilia o Cavaggiata. Pensa che addirittura alcuni piloti della MotoGP utilizzano i nostri prodotti. Per il nostro lavoro passiamo molto tempo su internet. Attraverso internet noi colloquiamo con i nostri clienti. E chi sono i vostri clienti? Motociclisti. Motociclisti in tutto il mondo. Lavoriamo anche con le squadre corse del moto mondiale e forniamo loro il nostro prodotto. Venite vi faccio vedere. Ma quella non è la moto di prima? Sì è la stessa moto di prima. Stiamo provando le prestazioni della marmitte. E come è fatta a misurarle? Le misuriamo attraverso questo strumento che si chiama banco prova dinamico e il tecnico così facendo può vedere le reazioni del motore al cambio della marmitte. Certo che è proprio bello lavorare tutto il giorno con questi boli. Ma che cosa hai studiato per farlo? Ho fatto per il teletronico per iniziare e poi ho perfezionato gli studi presso il politecnico e sono diventato ingegnere meccanico. Poi con lavoro e esperienza sono riusciuti ad essere responsabili di questo riporto di ricerca e sviluppo in questa azienda. Questa è sicuramente una ragazza. Ciao. Vuoi venire a vedere come si salda il titanio? Beh, io veramente non so cosa vuol dire saldare. Vieni pure a vedere. Lo so vedere anch'io. Si prendono due pezzi di titanio, si uniscono insieme e si fa la saldatura come questa. Però bisogna essere precisissimi. Tu come hai imparato? Io sono entrata in questa ditta come operaia specializzata, poi ho frequentato dei corsi per imparare a saldare. Adesso sono una delle più brave. A presto! Grazie a tutti.